Buon pomeriggio a tutti, oggi è ogni santi e nonostante la festa ci facciamo una seconda analisi anche perché essendo il primo novembre è giusto fare un po' il punto della situazione cosa vi avevo detto nella precedente, che si sarebbe o saliti direttamente oppure si sarebbe scesi per salire ed è quello che stiamo vedendo che sta succedendo sul Nasdaq Cosa possiamo dire tra l'altro? Abbiamo già raccontato che qui e qui sono stati violati gli swing per un nuovo T5 che quindi stiamo aspettando di capire come detto da innumerevoli analisi se si è partito da qui l'annuale che poi è già diventato ribassista e continuerà a portarci sulla discesa oppure se sta partendo qui anche se in maniera un po' stentata un po' come è successo qui ma un po' più rapidamente peraltro ci sono altri mercati che stanno spingendo molto più del Nasdaq una delle cose che mi fa più sorridere è guardare il grafico del MIB guardate che roba praticamente due candele rosse su 14 verdi non so se vi ho dato un'informazione di valore qui ne abbiamo su 13 abbiamo invece 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele rosse quindi abbiamo una spinta decisamente più bassa uno dei due non ce la sta raccontando giusta e la cosa più divertente è che in passato il MIB ci ha permesso di capire cosa stava succedendo su S&P 500 e su Nasdaq ed evitare di prendere batoste attendendoci determinati movimenti per cui favoloso l'osservazione di più mercati aiuta sempre non esagerate perché se no poi più che altro perdete di vista il disegno principale oppure il singolo mercato mentre di indice siamo sereni che qui possiamo aver fatto 11 barre di partito secondo t con questa candela verde oppure partito da qui ok più semplice da questa parte con una chiusura di secondo t qui no a 5 barre no ecco questo ci dice che cosa ci dice che dopo l'apertura che avremo tra poco a rialzo da quello che sembra che ci dicano i future e dovremo andare a fare un pochino i conti con comunque una chiusura non soltanto del secondo settimanale ma come su tutti gli altri indici anche di un B settimanale che richiede un sottociclo inferiore di 3 gradi ribassista ovvero se abbiamo un T più 1 dobbiamo avere un 2 giorni un T meno 2 ribassista che quindi ci deve riportare sotto un minimo da cui siamo partiti oppure come mai sottolineo sempre di più in termini di tempo puro e quindi ci devono essere 21 più 21 42 barre su Nasdaq non 24 più 24 uguale a 48 come su Mib so sopra un certo minimo target per il movimento ce l'avevamo già detti potenzialmente appunto un superamento di questo massimo a 11.681 è un ritorno su questa media mobile a 50 periodi in rosso adesso vi faccio anche fare un'altra riflessione di più di medio periodo diciamo siamo su un mensile inverso che si è già vincolato a ribasso ovvero a salire perché l'inverso se si vincola a ribasso vuol dire che si sale che è arrivato solo a 18 giorni su 24 quindi noi potremmo cercare se vogliamo andare dritti al punto di salire per quanto più tempo possibile per arrivare a 24 barre ok quindi all'811 ricordatevi 811 ma noi possiamo arrivare direttamente all'811 chiudendo al contempo il t più 1 in questo caso no lato indice non possiamo arrivare a 13 barre quindi si potrebbe valutare prima una salita con una chiusura del terzo t inverso e poi una discesa per andare a chiudere il secondo settimanale e anche il bisettimanale oppure un movimento differente in questo momento sembra più probabile appunto il primo ma ricordatevi sempre di non dare nulla per scontato cioè questo intervento serve per dirvi abbiamo un target già definito questo massimo che può essere raggiunto in determinate condizioni abbiamo che sarà raggiunto in un modo o nell'altro probabilmente per un fatto sia per la chiusura del t più 2 inverso che per il fatto che dobbiamo chiudere un trimestrale inverso ok iniziamo a ragionare semplice su questo genere di cose il target è quello è questo qua poi ricordiamoci che arrivando all'otto come abbiamo detto arriveremo a 59 barre già adesso siamo a 53 siamo già oltre il tempo di un trimestrale inverso siamo già oltre le 48 attenzione quando chiuderà il trimestrale inverso dopo aver fatto il movimento che per ora sta facendo rialzo poi avremo spinta ribasso bisognerà vedere quanta spinta ribasso e da dove partirà ribasso riusciremo a superare a penetrare a superare questa media mobile a 50 periodi in modo permanente oppure no sono queste le cose che dovete chiedervi quando vedete questo grafico insieme al fatto che ribadisco finché non andremo in violazione di altri eventuali massimi non sapremo se da qui abbiamo un raccordo tra semestrale tra t più 6 biennali oppure se abbiamo già un annuale ribassista perché finché non avremo la conferma dai volumi con la salita di cui vi parlavo da tanto tempo anche su S&P 500 non potremmo capire in che caso siamo mentre invece guardate quanto ha spinto il MIB sarà di nuovo precursore il MIB? Eppure un indice così piccolo quasi un mercatino vediamo intanto questo è quanto ci interessa sapere relativamente al Nasdaq ovvero che abbiamo buone probabilità a seconda dei movimenti di chiusura che farà lato indice e lato inverso di tornare sopra i 11.681.85 vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata di festa godetevela tra poco vado al cinema anche io a vedere qualcosa di interessante speriamo e statemi bene arrivederci grazie a tutti